Grazie a tutti La mia vita è stata sempre dentro a quel negozio, si può dire. Mi sono fidanzata con mio marito che aveva 14 anni. Poi ci siamo sposati e siamo stati sempre lì. Ho fatto due ragazzi, due figli e beh, questa è la vita. Sono lavorata tanto, 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 tanto. La mia vita è stata sempre lì. 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 La mia vita è stata sempre lì.